Nuove normative, addirittura si parla che fino al 31 luglio ci sarà il coprifuoco, per voi nel mondo della ristorazione. Un'unica parola, disastro. Seconda parola, incompetenza. Incompetenza perché non si possono fare le leggi da ora a 4 mesi, tra l'altro l'estate i casi si azzerano, i vaccini li stanno facendo. Questo terrorismo perché? Dire che fino alle 22 il coprifuoco, fino al 31 luglio stanno toccando tasti molto delicati. Poi una cosa che vedo, io ho 43 anni e purtroppo per questioni di famiglia, io è da quando ho 5 anni che sono qui e cerco di dare una mano al lavoro e so come funziona il commercio, sono sempre cresciuto in mezzo a migliaia di persone per il lavoro che faccio e vedo come funziona il mondo. Queste persone giustamente dopo che pagano comitati scientifici, fior di milioni, di miliardi e altro, non possono confrontarsi con il popolo e capire le esigenze vere. Ma dove mangiamo a fine mese? Cosa facciamo? Migliaia e milioni di persone, cosa fanno? Cioè state facendo delle leggi solo per distruggerci. Veramente conviene chiudere davvero tutto e andarsene perché ognuno che viene qua spara quello che vuole. A rischio anche i posti di lavoro? A rischio tutto. Perché lei stamattina già sta licenziando alcune persone per la stagione? Sì, io non solo... 31 luglio finisce la stagione per voi. Non solo ho bloccato lavori, ho bloccato le persone, le ho licenziate, ma anche io sto facendo dei lavori, ho fermato tutto, basta, ci stanno bloccando. Poi un'altra cosa, io vivo, io sono parte del popolo e vivo in mezzo al popolo. Draghi, stai tranquillo che le persone a luglio dentro casa non le tieni perché mi sa che il tuo popolo, il popolo italiano non lo conosci. Sono persone abituate a viaggiare in aerei privati, in mondi di banche e di miliardi che non sanno cos'è il popolo e l'esigenza del popolo. Ma le persone non si tengono così, non siamo animali. Cioè, chi ieri si ha fatto queste nuove norme stava riferendosi ad animali, non a persone, ad essere umani, a padri di famiglia, a persone che stanno soffrendo. Ma ma non stiamo scherzando. Padre di famiglia stamattina ha chiamato un tuo lavoratore e ha detto che il lavoro salta, si è messo a piangere perché non c'è soldi più per i bambini. Alla notizia che il 26 non apriamo, ieri è scoppiato un putiferio qua. Quando ancora gli ho detto guardate dovete rimanere ancora a casa, è successo un caos. Le persone piangono, le persone disperate che mi mandano messaggi che hanno bisogno di lavorare oggi più che mai. Non hanno cosa mangiare, cioè chiudi, venda gli i primi soldi a casa alle persone e poi chiudi. Se è veramente… ma poi come fai a dire che fino al 31 di luglio, 31 maggio mi fai il coprifuoco fino alle 22? Ma non è una cosa, chi è un… ma svegliatevi, svegliamoci dai tutti, svegliatevi, svegliamoci, scendiamo in piazza, cioè non si può andare avanti così. Comunque voi con l'istoratore non ci state, quindi scenderete in piazza? Sicuramente sì, sì, non significa accettare di morire. Oggi o facciamo subito qualcosa o abbiamo finito. Cioè in mano a persone incapaci.